La versione mobile del tuo sito Da oggi potrai creare la versione mobile del tuo sito in modo molto semplice. Nel pannello di gestione presente alla destra dell'editor, cliccando su Cambia editor, potrai decidere se editare la versione desktop o mobile del sito. Se clicchi su Versione mobile, le griglie verranno automaticamente adattate alle dimensioni standard degli smartphone. L'area di lavoro è la stessa della versione desktop, pertanto potrai solo spostare e ridimensionare i componenti. Attenzione! Tutto ciò che aggiungi, modifichi o elimini nella versione mobile verrà automaticamente aggiunto, modificato o eliminato anche nel sito desktop e viceversa. Facciamo un esempio. Per esempio, puoi trascinare e ridimensionare la casella di testo nella versione mobile senza alterare quella desktop, ma se cambi il testo, modifichi il carattere o il colore, lo elimini e così via, queste modifiche verranno apportate ad entrambe le versioni. Facciamo un esempio modificando il testo e il carattere. Ritornando ora in versione desktop, il testo sarà modificato. L'unica eccezione è per il componente menu. Cliccando due volte sulla barra menu, infatti, potrai attivare il menu mobile e sceglierne lo stile. Da notare che le pagine create per la versione desktop compariranno poi sulla versione mobile. Se vuoi che alcuni componenti siano visibili soltanto in una delle due versioni, puoi utilizzare la funzionalità Livelli, presente nelle impostazioni avanzate nel pannello di gestione. Vediamo come funzionano. Il pannello Livelli indica la lista di tutti i componenti presenti per pagina. Ciascun componente può essere selezionato, rinominato, nascosto dalla pagina, bloccato per evitare che erroneamente si apportino modifiche, eliminato. Ipotizziamo che nella versione mobile tu non voglia mostrare l'immagine presente in home page, mantenendola nella versione desktop. Clicca sul componente Immagine dal pannello di controllo dei livelli. L'immagine verrà automaticamente selezionata. Adesso, clicca su Nascondi livello, in modo tale che l'immagine venga nascosta solo nella versione su cui stai lavorando. Per mettere online la versione mobile del tuo sito, basta cliccare sulla rotellina Gestione sito e quindi su Attiva visualizzazione mobile. Così facendo, se cerchi il tuo sito da uno smartphone, visualizzerai automaticamente la versione mobile da te realizzata. Se la funzione è invece disattivata, continuerai a visualizzare quella desktop navigando da qualsiasi dispositivo.